Buongiorno, sono Urbano della San Emoreno Volkswagen Audi di Fucecchio. Oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco usato. Come potete vedere si tratta di questa bella Volkswagen Polo 1.2 turbodiesel dell'anno 2013 versione Comfort appartenuta ad un solo proprietario. Allora intanto vi faccio vedere queste immagini della carrozzeria esterna in cui si vede lo stato veramente ottimo sia della carrozzeria sia della verniciatura che è di questo vision altracite molto bello, brillante, non ci sono ammaccature, non ci sono cose particolarmente gravi. Due graffietti da macchina usata ma niente di più. È la versione Comfort, particolarità, può essere guidata dai ragazzi e ragazze neopatentate quindi un'ottima vettura per cominciare a guidare. Internamente la sua tappezzeria è veramente bella. Bella significa non ci sono buchi, non ci sono strappi. È stata lavata, igienizzata a vapore. Abbiamo fatto dare dei prodotti igienizzanti perché l'interno della macchina deve essere veramente, come diciamo noi, spettacolare. E questa lo è. A livello di accessori interni abbiamo il suo climatizzatore, vi faccio vedere, eccolo qua. Abbiamo il suo autoradio con il CD. 87 mila chilometri. Tutti tagliandati presso la nostra officina Volkswagen. Quindi molto molto ben controllata la vettura. Quindi ripeto, un'ottima vettura per incominciare a guidare. cosa dire di più? È già disponibile presso il nostro punto vendita, potete già venire a vederla, a provarla, a chiedere informazioni per l'acquisto. Su questa vettura tra l'altro ci possiamo fare anche dei preventivi per dei pagamenti rateali. Quindi se volete delle informazioni, ripeto, o telefonate o venite di persona. Quindi già disponibile, potete chiedere le informazioni. Se volete vedere delle spiegazioni più dettagliate andate sul nostro sito diretto autosani.it troverete sia questa vettura che tutte le nostre altre proposte sia sull'usato che sulle vetture aziendali. A questo punto vi saluto e vi aspettiamo per quanto riguarda le nostre proposte. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima vettura.